Forse un giorno, già un giorno, l'altro giorno abbiamo trovato la carta dorata, bellissimo. Adesso andiamo a aprire il nostro pacchetto, adesso era aperto, adesso facciamo così, ecco Adesso lo scopriamo, prima, oh guarda che cosa ho trovato, guardate ragazzi avete visto qualcosa che è lucica, ok, ok, allora, emolga, emolga, kimeko, bella, che sa, ho giocato lì, allora, kimeko, no, ok, kimeko, Kimeko, emolga, ancora per lo scopo che si rimane, ninetalales, cavdol, cosa è questa roba? Non sono neanche accorto questa roba, cosa è questa roba, io, ma ce l'ho già la buzione di questa roba, vai vai, ma ce l'ho già questa, non mi serve un'altra, vai, quali, mer, ma ce l'ho già pure questa, la tin, pure questo ce l'ho, Adesso, oh, abbiamo visto, il pokémon, vediamo come si chiama, forse lo conosco, che sa, un, ragazzi, iscrivete al canale e mettete mi piace se voglio farvi vedere questa carta, uno, due, tre, wow! Guarda, è bellissima, è bellissima, bellissima, no, almeno, allora, mmm, lo posso vedere? Guarda, 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 guarda